buongiorno signore e signori ragazzi e ragazzi oggi voglio presentarvi onda nsr 125 siamo alla fine degli anni 80 e il mercato richiede con forza delle ottavo di litro 125 per l'appunto completamente carenate invece onda presenta la sua nsr in totale assenza come vediamo dalla foto di un riparo e costituisce quindi un'eccezione quindi un mercato governato da tanti modelli ma costosi quindi onda cosa fa presenta questa 125 non rinunciando alla qualità costruttiva vedremo appunto quali sono le sue caratteristiche però appunto a un prezzo inferiore rispetto alla concorrenza delle moto carenate caratteristica comune motore a due tempi capace di sviluppare delle prestazioni notevoli fino a potenze di circa 30 cavalli all'albero motore la prima serie che è stata prodotta dal 1988 al 90 nelle due varianti quindi f nuda che è questa in foto e l'altra invece dotata di carenatura e il nuovo telaio è formato da un bitrave quindi vediamo in foto appunto il fatto che da questa è lato d'esco e vediamo il lato destro c'è questa trave dall'altra parte ovviamente c'è la stessa trave quindi un bitrave inclinato vedete quindi che costituisce una linea fra il forcellone e il canotto di sterzo una linea dritta e formato però da due semi gusci che vengono poi imbullonati questi due semi gusci vengono ottenuti per pressofusione e questo processo consentiva dei montaggi a prezzi più bassi quindi costi di produzione con costi di produzione inferiori il suggestiva telaio dorato era stato realizzato dalla grimeca inoltre il telaio era completato da un piccolo castello posteriore qui non visibili in tubi quadri che sosteneva appunto la parte posteriore cioè la sella la batteria il serbatoio dell'olio e il parafango le ruote sono dai 17 pollici all'anteriore mentre il posteriore abbiamo un 18 pollici hanno queste caratteristiche razze ruote scusate a razze a tre ruote vedete molto particolari e che sono molto arcuate quindi conferiscono contribuiscono conferì una linea originale all'intera moto il forcellone nuovo rispetto al modello precedente con un carburatore da 28 mm e l'adozione di questo nuovo motore con misure quadre e la sospensione con le forcelle nuove costituiscono una novità come anche l'impianto di scarico che viene completamente rissegnato quindi di fatto una moto che ha molte caratteristiche innovative il peso vuoto di 121 kg la potenza massima di 27,72 cavalli e il carburatore abbiamo detto un dell'orto da 28 mm con un cambio a sei rapporti invece per quanto riguarda la forcella abbiamo una marzocchi da 35 mm mentre il posteriore un monomotizzatore con regolazione del precarico il freno anteriore vedete qui molto grande si vede in figura da 316 mm con pinza grimeca al posteriore invece da 220 mm incasso visibile sempre con pinza grimeca le prestazioni dichiarate sono una velocità massima direi notevole di 160 km orari e con un consumo altrettanto insomma intonato quello che la moto di 18 chilometri litro vediamo la moto nel suo complesso che si presenta molto originale e ad esempio il colore blu vedete che caratterizza sia la sella sia la parte del codone e parte del serbatoio conferire questa tinteggiatura così originale contrastata appunto dall'arancione delle ruote quindi una un'immagine sportiva che ben evidenzia appunto il bellissimo telaio monotrame altre caratteristiche per chiudere il faro rettangolare come era nella moda degli anni ormai 90 siamo alla fine degli anni 80 inoltre notate anche la sospensione la scusate l'espansione quindi la marmita di scarico a espansione appunto per conferire maggiore potenza al motor naturalmente e come si vede anche dalla foto la presenza con la presenza del radiatore il raffreddamento è a liquido bene se vi è piaciuto mettete un like se non vi è piaciuto dislike attivate la campanella per essere sempre aggiornati iscrivetevi al canale sto cercando quest'anno di aumentare il numero di iscrizioni quindi mi raccomando se vi è piaciuto iscrivetevi sarete costantemente aggiornati e commentate qui sotto se avete avuto soprattutto esperienze con questo modello di moto ci farebbe molto piacere grazie mille ciao a tutti e buona giornata